Innamorati di Napoli, con gli innamorati di Napoli, giunge alla sua quarta edizione. L'iniziativa, nata da un'idea dello scrittore Maurizio De Giovanni e a cura dell'assessorato alla cultura e al turismo, consiste in un programma di visite guidate da ciceroni illustri, che affiancati da guide turistiche esperte faranno innamorare di Napoli cittadini e turisti. L'idea è sempre quella che ognuno dei ciceroni ha scelto un proprio luogo del cuore della città, quindi ci racconterà quel luogo insieme ad una guida turistica che lo racconta dal punto di vista storico-artistico o per le vicende che lo hanno storicamente attraversato, lo racconteranno invece per una propria emozione particolare, cioè in che modo e perché quel luogo ha segnato profondamente il suo rapporto con la città. Si andrà alla scoperta di alcuni tra i più interessanti luoghi napoletani raccontati da chi li vive e li ama ogni giorno. Le visite si terranno nella mattina di domenica 17 febbraio e le tappe abbracceranno l'intera città. Il calendario completo è online su siti del Comune di Napoli e dell'Associazione Guide Turistiche Campania. L'auspicio di voler rimuovere le coscienze del cittadino napoletano, di voler portare in risalto l'amore per questa città. Noi ovviamente come guide facciamo questo per professione, la nostra professione è appunto risaltare le bellezze di questa città. Grazie. Grazie. Grazie.